Ben ritrovati, non ha vinto lo scorso Sanremo, ma in compenso ha fatto incetta di premi di altro tipo. Stiamo parlando di Annalisa, la nostra protagonista, oggi a cui dedichiamo questo spazio anche alla luce dei riconoscimenti recenti. Annalisa infatti è tra le grandi protagoniste della scena musicale italiana e internazionale di questo 2024 che sta per avviarsi a conclusione. Oltre ad avere raccolto grandi consensi dal pubblico, la pop star ha infatti collezionato numerosi premi sia in Italia che all'estero. Domenica 10 novembre, per esempio, Annalisa ha trionfato nella categoria Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards 2024. Ha dichiarato sul proprio profilo Instagram, dopo aver ottenuto il riconoscimento, ad avere una strada percorsa mano nella mano e tutte le cose belle successe quest'anno le abbiamo vissute e ce le siamo prese insieme. Poche ore prima aveva anche ricevuto riconoscimento come fenomeno europeo dell'anno ai Los Forti Music Awards. La cerimonia di premiazione si era tenuta a Barcellona. Annalisa si è anche esibita con Sinceramente, cioè Quando, 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 con versione spagnola del brano, hanno classificatosi al terzo posto al 74esima edizione del Festival di Sanremo. A marzo, invece, la pop star era volata a Los Angeles per ritirare il premio Global Force ai Billboard Women in Music Awards. Annalisa aveva dichiarato avere la possibilità di essere qui, in rappresentanza del mio paese, e condividere questi messaggi è la vittoria più luminosa. E poi ancora, a settembre, Eccola, fare il pieno di statuette ai Team Music Awards. La pop star aveva ritirato il premio Arena di Verona, il premio Year One e il Team Summer Eats per storie brevi con Tananai. Inoltre, aveva anche ricevuto le statuette live platino per Tutti nel Vortice Tour. Singolo multiplatino per, sinceramente, disco multiplatino per E poi siamo finiti nel Vortice. Ma come se non bastasse, sinceramente, ha anche conquistato il primo posto nella classifica di una nota emittente nazionale, come RTL 125, per la canzone più radiofonica del Festival di Sanremo 2024. La canzone ha vinto anche il premio Power Eats Estate 2024 SIAE, in quanto brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, nel periodo compreso tra il 24 giugno e il 30 agosto proprio di quest'anno. Inoltre, Annalisa ha ricevuto anche ben due telegatti, uno per la carriera e uno insieme a Tananai per storie brevi, poiché eletta canzone dell'estate scorsa. Come dire, quanto basta per capire che questa interprete, nata musicalmente dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con due gruppi, poi divenuta nota come cantante solista nel 2011, partecipando alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ha ormai fatto il salto nel mondo musicale internazionale. Se all'epoca aveva ottenuto il premio della critica, vincendo poi l'anno dopo ad Amici Big, nel 2023 ricordiamo che la rivista Forbes l'aveva inserita fra le 100 donne di successo in Italia. E allora torniamo proprio agli esordi adesso, e a un brano come Giorno per Giorno, dal primo album in studio da solista, Nali, del 2011 appunto. Buon ascolto!